La serie tu vai a far la speda e ti torna un camion in 3 secondi e mezzo Che poi vola e c'entra pure i balconi e le case quindi anche se sei in casa muori Cioè tu muori a priori perché la gente non frena e esplode tutto incredibile Noi quest'oggi lo vediamo su GTA dato che nella vita reale forse sarebbe meglio non vederlo E quindi lo vediamo su GTA 5 e proviamo a fare anche diverse cose molto divertenti Allora prima di tutto andiamo a vedere Allora noi stiamo dentro il mondo da una decina di minuti E la situazione della città senza freni mi sembra Beh diciamo che si capisce subito che c'è qualcosa che non va Allora tu praticamente Non frenano non frenano non frenano Devi schifre Perché allora funziona così Loro non è che tirano sempre dritti è che quando provano a frenare in realtà accelerano Esatto Vedete vedete cosa succede Vedete i passanti Che è successo E la situazione poi inizia a peggiorare drasticamente perché panica no E iniziano tutti a Mi scusi per favore Quindi è impossibile stare anche nel mondo di GTA ragazzi Non è possibile Calmo Guardalo guardalo Oh dai però no Per forse investire però Si si l'ha fatto palesemente apposta Lui non voleva proprio Non sai dove guardare È qualcosa di inseribile Devo dire No prende il camion della spazzatura Che finché non ti c'entra Prendi un'auto Prendi un'auto No perché No 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 Ok Ma perché Vorrei Non mi schiacciare la testa grazie Ok No Steph stanno male Ma c'era qualcuno in quell'auto Non è solo senza freni Che so pazzi proprio Cioè c'è qualcosa che non va Signori Non voglio finire in ospedale Mi dissocio Ma perché c'è gente nuda Signorina la prego Aiuto Scusate per lui Scusate Ho perso un po' l'udito No per anche i pompi L'hai visto il tizio volare No no guarda lì che sta succedendo Sta succedendo di tutto E' passata attraverso palese Questo sgommando No la signora No Ma è volata dall'auto Sembra l'inizio di un film apocalittico Non lo so Allora aspetta Perché sto gioco mi ha messo La radio Perché hanno creato la radio Su sto gioco Tu spiegamelo Non lo so Hai dieci secondi per spiegarmi Perché hanno creato la radio Non te ne sei accorto Stai favamo la radio da due ore No perché siamo saliti adesso in auto Amica mia Ah è vero Per se poco sveglia comunque Sì lo so Cioè lo sveglio di casa sono io Ma no C'era una persona lì un tempo Allora La situazione è degenerata Io non ho neanche fatto nulla alla fine Perché quello tu non fai niente Perché qui ti arrivano tutti addosso Perché vanno tutti contro di te Che esploso poverino Guarda anche questo Perché stai passando da qui Perché non riescono a frenare Non sanno più dove andare Fede Ho capito ma sempre addosso a te Devono andare I pompieri sono i miei preferiti La rosa sono i migliori Dovrebbe andare No Comunque io posso frenare Hai visto? Prima non potevo Vedi Hai l'auto buggata Forse perché ho preso un'auto parcheggiata Però ci farà molto comodo Per andare in giro Perché altrimenti era abbastanza problematico anche questo Secondo me hai trovato l'unica auto buggata di tutto il gioco Buongiorno Ha parcheggiato bene signore Sì È molto bravo Molto abile Tecnicamente dovresti non poter frenare anche tu Steph Ma volano dal... Sì 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 Se vanno troppo veloci sull'offline volano È una cosa... Ma per quanto corro Non lo so io non so cosa fare Qua succede di tutto Non fa ridere Si fa ridere Non ridiamo Non fa ridere Come fa ridere un sacco Allora ammetto che nella vita reale potrebbe fare paura Ma su GTA È stupendo Allora 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 Ci sono due cose che volevo fare comunque Non riesco a parlare tre secondi di fila Sei fermo No io sto anche fermo Il problema sono gli altri Cioè No Mi dice No Era palesemente fatto a po... Ancora Poverino Infine Chiamate un'ambulanza Aiuto Vabbè Io lo voglio salvare No no È ancora vivo Fere Lo proteggo io Lo schiacciato Basta No signori L'avete ucciso dieci volte sto povero Fortuna che è scomparso il sangue Sembra meno tragico La vedi la signora che scappa Gli è morto il marito L'hanno appena in vestita Però viva lei Vedi che il marito è morto Sì No 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 Ancora viva No non l'ha raggiunto Aspetta Dobbiamo proteggerla Signora Il limone Signora Il limone Signora La devo proteggere Aiuto Le schiva tutte Aspetta La proteggia No L'ho salvata per ora Mi scusi No vabbè Ma io devo salvare lei Gli altri non importano No signora Non deve attraversare da sola Signora No Dobbiamo ridere Ho fatto 50 metri Ho fatto 50 metri Potrei morire Sto male Non so perché mi fa più ridere del necessario Stai riposando No era stanca Ha corso tanto Lo shock di aver perso Di zucchero Allora Però c'è il mistero Del fatto che tu invece puoi frenare Sì sì Non si sa Non si sa perché Io non l'ho capito Tu non dovresti poter frenare Lo so lo so Però secondo me perché era l'auto parcheggiata Secondo me se prendiamo un'auto non parcheggiata Eh beh prenderla verrà impossibile Tipo questa Questa non credo che sia stata Cosa sta succedendo Cioè ha perso le ruote Perché Non lo so Perché Ma poi c'è qualcuno dentro No è un fanto No non c'è nessuno Aspetta 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 No 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 Vedi che questa partiva Avrà ragione io Non ce l'ha vero nessuno Non c'è nessuno No ma C'è qualcosa che non va Non c'è nessuno Ma se io ci salgo la smette Non posso salirci Non è Vi prego un attimo Cioè sto cercando di capire Se esistono i fantasmi Su questo gioco Ci calmiamo Un attimo Non posso salire Vedi Non la considera un'auto Dove posso salire Mi sto facendo il moggio Vente bello Grazie Usa un pazzo letto No no E scappi Cazzo dice Allora Stiamo bene Stiamo bene Sto male No io volevo Vedere un'altra cosa Tipo Cosa succede con la polizia Ok Ok Quindi dobbiamo far arrivare la polizia Si il problema è che prendere un'auto è un casino Perché quando ammazzi partono Ok Però Sembra che ci abbiamo già fatta Ok la polizia sta arrivando Allora Quindi noi non possiamo più frenare però eh Perché questa È un'auto che era in gira Non parcheggiata Probabilmente quelle parcheggiate Non si sta perché sono immuni Esatto Dai non freni Guarda Se io premo il freno Hai il potere immagino Aspetta Comunque hai notato che sembra che si attivi dopo un po' di tempo No Deve succedere qualcosa Per farli impazzire Si Ecco tipo questo Si Allora guarda l'auto della polizia adesso Lui ci vorrebbe inseguire Ok Ok Fai l'inseguimento con la polizia che non può frenare Esatto Tu praticamente la cosa più divertente Mi hai sparato La cosa più divertente è che se tu ti fermi qua Loro di solito dovrebbero frenare e scendere dall'auto Invece accelerano No Gli ho fermati in cespuglio Scappa Scappa Ah mi maledetti Traditori Vedi però Hanno un sacco di problemi Si E quindi tu non hai molto da scappare dalla polizia Perché purtroppo Hanno i loro problemi Dove sta andando Non si sta Amico Amico poliziotto E quindi questa è la polizia meno efficiente di GTA 5 Però non voglio arrivare a tre stelle Dato che poi arrivano gli elicotteri E credo che li Beh hanno un sistema di Non so se hanno proprio dei freni Non so come funziona ragazzi Stanno arrivando Adesso arrivano Cioè frenano Oppure hanno un sistema di rallentamento Cioè Se avete mai guidato un elicottero Ditemelo Magari c'è qualcuno che guidi un elicottero Quindi lui Vorrebbe frenare Invece accelera E quindi parte Vedi E se ne va Stai a fare un casino Quindi a te basta Contro la polizia In questo mondo È morto già No Ma muoiono prima No Steph L'elicottero secondo te sta Io voglio un elicottero Ma perché Perché impazzite poi Perché ormai è andato Quando va È difficile sopravvivere dentro un'auto Non fa muoversi Non fa muoversi Guarda Aiuto Calmi Ferre ma l'elicottero sta Vedi Ha problemi Sto guardando Stava per morire Però non è morto No Si è rifigliato subito È un problema Perché poi mi spara Capito Aiuto Questo incrocio È diventato qualcosa di incredibile Aiuto Quanto scontro Allora l'elicottero Ha grandi difficoltà No allora Anche l'elicottero Ha qualcosa di strano Però non si è ancora schiantato Per me la prova del 9 È che si schianti da solo Se prima o poi si schianta Vuol dire che non ce la fa Ecco l'elicottero L'ho visto accelerare No 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 Sembra che tenga L'elicottero secondo me può vivere Però va Va comunque più strano Del normale Non so perché c'è Tutto sto caos Però sembra che l'elicottero Comunque Tolto l'elicottero Che bene o male Si autogestisce Come vedete Steph Scienzi Come vedete In que Non finisco No 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 La finisco Non la finisco Non la saprete mai Non la saprete mai Provate a indovinarla Non la saprete Come vedrete Come vedrete Cosa voleva dire Il cassetto Allora No finisci davvero No No dai Adesso Ok Adesso Ma basta Adesso Adesso Ad ogni adesso Si schianta qualcuno No 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 Io devo sopravvivere In mezzo Alla strada A piedi Per tipo un minuto No per tutta la vita Non è possibile Vado anche nell'incrocio Perché non ho paura Tanto sono a fianco all'ospedale Sono pronto Dove se servire A qualsiasi Evenienza Allora Spariamo anche un po' Facciamo un po' Di casino Vai divertitevi Easy Easy Perché si inizia Tipo livello Noob god Eccoci No 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 Vi schiva Tutti Però l'ho saltato Palesemente saltato Palesemente saltato Easy Ok Non c'è troppo Non lo dico più L'ho già troppo movimento Però L'altro in cruce Era molto peggio Steph Spara qualcosa Per arrivare la polizia Ma questo può frenare È un magico Sì Occhio signore Poteva frenare Non è perché era morto E quindi non poteva più guidare Era vivo No secondo me non era vivo Signora buongiorno Grazie Sui soldi A me sembra abbastanza cautico Anche qua Io No Sì 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 Però dicevo Spara qualcosa Fai casino proprio con la polizia Cos'arriva un botto di gente Bene Non c'è bisogno Non c'è bisogno Aiuto Mamma mia Mi ha sfiorata Ho preso quel povero Signore C'è un'ambulanza Ne avrei bisogno Mi hanno centrato 5-6 volte Allora Il problema è che Se adesso mi colpisce qualcuno Non è che l'ho visto Muoio Quindi devo stare No questo incrocio Questo è più bello Buongiorno Buongiorno No qui 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 Vai lì in mezzo Vai lì in mezzo No no Lì 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 Bene va bene qua No lì 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 It's an out Guarda che bello lì Penso di auto Proteggetemi Ma chi ti deve proteggere Le auto morte Qua Perché sto durando in una maniera incredibile Aiuto Mi prego Basterebbe un hit Tra tutte quelle E sarei morto Ti ho visto morto Ti ho visto morto Ti ho visto morto Aiuto Pensavo allo schifassi Mi ha fatto paura Perché non ho capito Allo schifassi all'ultimo Oddio ho anche saltato Esatto Quindi mi ha fatto una paura Quando ti ha preso Però vedi che Quello incrocio era migliore Era il top E' bellissimo Perché non giochiamo Sempre a GTA Dobbiamo fare una serie Comunque io propongo una cosa Sì Ve la propongo a voi I si può fare Steph No ma non I si può Facciamo Ma non fa Facciamo I si può fare Senza freni Con le auto senza freni Fammene un esempio No li propongono loro Perché non sono più previ di me Ok non hai idea Esatto Le stai sparando a caso Però questo sarebbe bello Provare a fare cose strane Con le auto senza freni A me non me ne vengono idea Ho notato Sono una youtuber scarsa Allora Sapevamo già E allora Non è che perché sono qua In realtà Lo devo fare io E' divertente Perché è bello Quando dai colpi così Fa la voce strana E io direi che ci fermiamo Perché sto per vomitare Un po' Non fermiamoci Eh no sì Voglio registrarlo ancora No no E' troppo divertente No poi ci sono troppe clip belle Non so qual è scegliere l'editor Non mettiamo in difficoltà È stato video molto divertente Molto divertente Molto bello E no Figata No figata Vediamo se vi vengo in mente A me non mi viene in mente Nessun si può fare Con stimati criminali Se vi viene in mente Non posso star tranquillo Nemmeno di fronte A un ospedale Se vi vengono in mente Propontici nei commenti Noi ci fermiamo così E ci vediamo Nel prossimo video Ciao 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 ciao